La chiesa di San Pietro Martire si trova su corso Umberto I, proprio di fronte alla via Mezzocannone e ridosso della facoltà di lettere dell'Università Federico II, che è ospitata in quello che un tempo fu il chiostro della chiesa. Fu costruita a partire dal 1294 per volere di Carlo II d'Angiò nell'antica zona della Calcaria, dove arrivavano alla porta di massa le navi con le merci provenienti da Massa Lubrense. La chiesa ha tutta una serie di interventi. Il più importante, abbiamo dopo la fondazione Angioina, è una presenza degli aragonesi, una presenza degli aragonesi che commissionano poi una serie di sepolcri. Isabella di Chiaramonte, la moglie di Ferrante d'Aragona, vuole essere sepolta in questa chiesa ed è la committente della grossa macchina d'altare di Colantonio, dedicata a San Vincenzo Ferrer, grande santo domenicano. Nel corso del tempo la chiesa ha subito diversi restauri e stratificazioni. L'aspetto attuale risale ai due grandi interventi di metà 600, quando fu concepito il portale con lo slargo antistante e di metà 700. La chiesa ha avuto grossi problemi per acqua di risalita, di falda di risalita, che hanno fatto sì che tutte le cripte fossero completamente allagate. Noi abbiamo fatto delle supposizioni che derivano dalle operazioni eseguite nel periodo tardo ottocentesco per il risanamento. Il taglio del rettifilo ha generato questa differenza di quota della falda acquifera che proveniva presumibilmente dal sebeto. La presenza di acqua nelle cripte generava danni sia alle pavimentazioni che alle murature. Chiusa dal 2010 per inagibilità, la chiesa è oggi sottoposta a lavori che fanno parte del grande progetto UNESCO per il centro storico della città di Napoli. Questo rilievo è emblematico perché raffigura la Madonna che incorona i nobili del seggio, che è stato attribuito ai fratelli Faccio e Giovanni Bertini, che sono dei seguaci di Tino di Camaino, il grande scultore senese che lavora alla corte di Romberto d'Angio. Come i Bertini rendono questi volti dei vari personaggi quasi con un'insistenza di ritrattistica, hanno un senso molto accurato nei particolari, non solo nei volti ma anche nell'abbigliamento del tempo. Ed è questa la rarissima testimonianza delle fondazioni angioine della chiesa. Oltre a risolvere il problema dell'acqua che risale dal basso, il progetto prevede diversi interventi di ripristino e di manutenzione, fra cui il consolidamento del pregiato pavimento barocco. Tra i manufatti soggetti a lavori di restauro vi sono anche alcune opere di pittura e di scultura. Quella che vedete è una bolla d'aria che è stata creata intorno al Cristo per far sì che tutti i microorganismi presenti all'interno di quest'ultimo siano debellati del tutto. Questa cosa è stata resa possibile mettendo all'interno di questa bolla d'aria degli assorbitori di ossigeno. Noi nel corso dell'intervento rimuoveremo tutte quelle che sono le cose sovrammesse, quindi le vernici che ci sono, tutte le parti ingiallite, tutti gli eventuali ritocchi che sono alterati e quindi che non permettono una corretta leggibilità del totale dell'opera. La Vergine che noi vediamo qui al centro della tavola che è sul suo catafalco di morte e attorno alla quale sono accorsi gli apostoli chiamati da tutte le parti del mondo da un angelo che in una sorta di nuova annunciazione si reca in tutte le parti del mondo e chiama a raccolta gli apostoli al capezzale della Vergine e nella parte superiore l'incoronazione della Vergine e da questo il modo per raffigurare l'assunzione della Vergine al cielo nelle sue due fasi, l'adormizio cioè la morte della Vergine e la coronazio, l'incoronazione nella parte superiore.